Direttore, non è mai bello perdere nella prima uscita ufficiale di un Gela che punta ad essere comunque tra i protagonisti di questo girone di Serie D, anche se era una Coppa Italia, comunque una sconfitta che brucia all'interno del Gela Calcio? No, assolutamente sì, non fa piacere mai perdere, il Gela non gioca, onora tutte le competizioni, siamo sicuramente molto ma molto rammaricati per la sconfitta, per i nostri tifosi, per noi stessi, per il Presidente. Forse è meglio prendere qualche schiaffo all'inizio così ci caliamo subito nella realtà del campionato e cercheremo di fare tesoro degli errori commessi oggi per migliorarci in futuro. Puniti in pratica nell'unica disattenzione difensiva? Sì, effettivamente, puniti oltre sicuramente ai nostri demeriti, però il risultato è questo, bisogna accettarlo e da martedì ci rimboccheremo le maniche, ripeto, per mettere riparo a qualche errore sicuramente commesso. C'è ancora qualcosina da fare nella Rosa? Sì, sicuramente, lo sappiamo tutti che c'è qualcosa da fare, ci stiamo lavorando per portare il pezzo giusto che faccia al caso nostro. La sconfitta è sempre una sconfitta, però non è stata una sconfitta meritata. È un rammarico che potevamo benissimo fare la nostra partita nel primo tempo, penso che abbiamo avuto più occasioni nitide di poter sbloccare la partita, solo che magari per un motivo o per l'altro non siamo stati bravi. Nel secondo tempo abbiamo avuto proprio una ripartenza, per un nostro errore su un'uscita in fase offensiva, abbiamo preso una ripartenza che ci ha costato a gare. Al di là dei risultati, è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi? Sì, devo dire che stiamo lavorando, io sono molto fiducioso, alla fine lavoro paghe, però è chiaro che non potevo trovare una squadra brillante il 21 di agosto dopo aver fatto un grande lavoro. È normale che solo nel tempo pure riuscire ad assemblare una squadra con nove undicesimi di giocatori nuovi, è chiaro che bisogna trovare il giusto sincronismo. È arrivato Montalbano, è tornato Biancola, c'è ancora qualcosa da fare in questa squadra? Certamente, io penso che ci sarà qualcosa da fare, non è utile che ci nascondiamo di giù un dito. Lo sappiamo benissimo qual è il nostro giocatore che può anche alzare un altissimo tasso di esperienza, specialmente in un reparto come la retroguardia e che di conseguenza stiamo lavorando per questo.